Durante questa permanenza casa a casa del coronavirus mi alleno sia facendo gli esercizi che mi amano proprio di ginnastica e il mio allenatore, sia facendo altri esercizi come può essere correre. Saltare la corda. Fare dei piegamenti. Degli squat. Ho pure altri esercizi come questi. Saltare la corda. Saltare la corda. Saltare la corda. Saltare la corda. Saltare la corda.